Successo per Cabiri a GSO e Filippo Monti in questa stessa corsa, Filippo commentiamo ovviamente questa vittoria, quali sono state le tue sensazioni e poi un breve commento su questa giornata gentlemen. Bella, una gran bella vittoria, non era facile, c'erano cavalli buoni, c'era il traffico lungo il percorso che si è rivelato tale poi davvero lungo tutto il percorso, la schiena del numero uno ci ha portato ultimi, abbiamo fatto un paio di mosse azzardate ma sono andate bene, la cavalla era in forma, si è difesa bene fin sul palo, sono molto contento. Ti chiedo ovviamente un commento su questa giornata gentlemen. Come al solito le giornate gentlemen di Bologna sono organizzate bene, riescono bene, c'è buona presenza, le corse erano anche di un livello medio tendente all'alto, aspettiamo il centrale ma una buona giornata, una gran bella giornata come al solito. Bene, ti rinnovo ovviamente i complimenti per questa vittoria e ricordo di seguirci sui canali social.